Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Hart, che mi chiede di parlare del film del 1992 di Roland Emmerich, richiestissimo quest'ultimo periodo, i nuovi eroi con protagonisti Jean-Claude Van Damme, chiaramente Dolph Lundgren ha fatto tantissimi seguiti, tra cui l'ultimo è veramente bellissimo, appunto, diretto dal figlio di Peter Eames. Gli ultimi due sono proprio più interessanti di questo film iniziale, che comunque nel 1992, figlio di un certo tipo di cinema alla Terminator e alla Robocop, il nostro Emmerich tira fuori questo film di serie B appunto con due eroi dell'action muscolare di quel periodo e ne tira fuori comunque una storia sostanzialmente gradevole. La storia appunto è quella di un gruppo di soldati in Vietnam, inizia così il film che sono chiaramente insieme per combattere la guerriglia dei Vietkong, mentre uno di loro, interpretato da Dolph Lundgren, che si fa la collana con le orecchie della gente, praticamente la butta di fuori e ammazza completamente tutto un villaggio di vietramiti, anche appunto di civili, e a questo punto lo scontro con De Veró, che è interpretato da Jean-Claude Van Damme, non può essere evitato e quindi i due soldati in realtà in una lotta incredibile si uccidono fra di loro. E quindi da morti vengono portati via appunto da questi scienziati che li risvegliano 25 anni dopo e fanno parte di questa, diciamo così, sezione chiamata Unisol, di questi universi al soldi, di questi soldati riportati appunto dalla morte per poter combattere il terrorismo e via dicendo. Solo che durante, c'è una giornalista che va a vedere che cosa sta succedendo, insomma, e via di su e via di giù, il nostro, in realtà che non dovrebbero avere più nessun sentimento, nessun ricordo, in realtà il nostro Jean-Claude Van Damme incomincia con il suo cervello a ricordarsi tutte le cose terribili che ha fatto in Vietnam e che sono state fatte fare a lui e che ha anche subito. E quindi, in un certo senso, scappa con questa giornalista per cercare di non essere fatto fuori da tutto il resto dell'universi al soldi e poi quello di Dolph Lundgren impazzisce, ammazza tutti e insomma va alla ricerca di lui. La storia è tutta qui per un film comunque abbastanza efficace, che naturalmente rigioca col mico di Frankenstein, con la rinascita e via dicendo, e che ha nei due protagonisti comunque due facce abbastanza interessanti. Meglio Dolph Lundgren forse, perché quella faccia da cattivo inquadrata così non dà alcun fastidio. Certo, siamo di fronte a un film modesto, non è un film chissà di che livello, anzi, ripeto, già dal secondo migliorerà. Però, ripeto, gli ultimi due sono veramente ganzi e l'ultimissimo è veramente fantastico. E ripeto, qui siamo comunque di fronte a un film forse il primo americano del nostro Emmerich che comunque aveva ancora una dignità nella messa in scena. Non cercava solo l'effetto speciale, cercava insomma di costruire anche una storia che durante comunque il primo tempo riesce a essere anche gradevole, riesce a inserire momenti sociali non malvagi, a regalarci appunto dei cattivi che sono gli americani stessi che è tutto sommato un'idea abbastanza interessante. Certo, è un film che poi nella seconda parte inizia a scoppiettare tutto, scoppia tutto l'impossibile, botte d'orbi e la parte finale, il combattimento del Van Damme e del Flung, che comunque è ben fatto. Ripeto, per un film d'azione, un film d'azione fantascientifico che comunque al suo interno qualche dussa ce l'ha e non è completamente da buttare. Come ad esempio le buone musiche di Christopher Frenkie che fanno un discreto lavoro, così comunque anche la ricostruzione del Vietnam e la ricostruzione anche a un certo punto del design, ecco del design di ciò che hanno questo Universal Solid che è veramente interessante, così come un buon montaggio di Michael Dutley che riesce comunque a dare un giusto ritmo a un film che tutto sommato, ripeto, è un classico filmetto del cazzo che si guarda senza però avere danni, un classico film insomma di fantascienza che mescola l'azione, la fantascienza, la voglia appunto in un certo senso anche più alta di una fantascienza dove si cerca di parlare anche di replicanti e roba del genere, un po' la Blade Runner, scusate il parallelo, ma però serviva per un film che chiaramente non vale assolutamente questi film perché poi si sposta solo sull'azione e anche sul tanto amarraggio e un po' troppo pesce, ma comunque che il sottoscritto non disdegna e con il quale mi sono sempre divertito, al di là appunto della qualità oggettiva del film che probabilmente è molto bassa, però il film insomma ha un emmeri che ripeto che è ancora meno pachidermico, riesce in un certo senso a portare avanti la storia senza troppi danni, non shooterizza, il ritmo è molto più lento di quello che fanno i film di adesso dove scoppia tutto e riesce a shooterizzare gli effetti speciali con dovizia. Il link è qua sotto, donate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a Gillo Britannia e povero di Dio, insomma, questo è I nuovi eroi, Universal Soldier, in originale, è un film che ha generato tantissimi seguiti perché ebbe un grandissimo successo, lanciò la carriera di Emmerich nel bene e nel male e soprattutto, insomma, creò un mondo, quello dell'Universal Soldier, che ripeto comunque con l'ultimo film è veramente diventato qualcosa di imperdibile per gli avanti del fantascienza. D'azione qui siamo ancora di fronte a qualcosa di un po' cheap, in un certo senso con una scrittura ogni tanto deboluccia però nel quale, come ho detto, ci si può trovare cose che possono interessare e quindi divertire.